ciao ragazzi bentornati sul canale dopo la bella avventura che abbiamo passato nei giorni scorsi con roberto e silvio oggi sono qui per farvi un video ovviamente comodo da casa è un piccolo unboxing di un coltello che ho preso di recente e mi è arrivato proprio oggi proprio adesso e adesso vado aprire insieme a voi è un chiudibile come vedete la marca e kershaw ultimamente diciamo che anche negli states questo tipo di coltello questo coltello molto apprezzato soprattutto per chi o non ha la possibilità o non ha la voglia di investire grosse cifre per un folder sostanzialmente e in particolare diciamo che siamo sul genere di benjmade e praticamente cerca comunque un buon coltello sembrerebbe dalle recensioni che ho visto spendendo una cifra ragionevole se vogliamo vedete qui la scritta kershaw il coltello è disegnato negli stati uniti e kershaw ormai ha spostato la sua produzione in cina ma come moltissimi altri brand quindi non è l'unica non è l'unica ovviamente se si vuole un prezzo diciamo interessante concorrenziale molti molti brand anche famosi spesso fanno una linea usa e una linea diciamo asiatica ok kershaw molta della sua produzione la fa in asia ho avuto altri coltelli kershaw soprattutto il camp 10 che secondo me è un coltello che si vede poco ma è un gran bel coltello e perciò e devo dire lo trovo un coltello validissimo per il prezzo perciò mi sono deciso a prendere questo kershaw di cui avevo letto molto molto bene allora andiamolo a vedere il kershaw in questione è l'iridium ok è un folder come vi dicevo arriva nella sua scatolina ok con le varie scritte disegnata negli states e fatto in cina andiamolo ad aprire insieme cosa mi aspetto innanzitutto mi aspetto un coltello ovviamente come vi dicevo preso ad un prezzo ragionevole che non è prezzo economicissimo che vediamo sui ganzo così altri tipi di chiudibile quindi trovate qualcosa sicuramente di più conveniente qui siamo intorno ai 100 euro però anche un po sotto e si prende anche intorno 95 100 euro indicativamente 100 euro ma con delle caratteristiche secondo me molto interessanti e quindi è un secondo me è una via di mezzo tra il coltello blasonato del brand famoso che vi spara ormai anche più di 300 euro per un chiudibile e il coltello economico made in china che potete trovare sui vari siti amazon eccetera eccetera andiamola a vedere insieme iridium allora il coltello arriva nella sua busta che cosa mi aspetto mi aspetto un coltello economico tra virgolette non eccessivamente economico ma comunque da un buon rapporto qualità prezzo con delle buone finiture e con buone qualità di taglio e robustezza questo è quello che io vorrei da questo coltello oltre a praticità trasportabilità e quant'altro quindi un coltello da usare senza tante remore è un coltello che ho preso per essere usato non per essere messo in collezione il folder l'edc è un coltello che per quello che mi riguarda io ho avuto e ho anche coltelli importanti però sul folder e sull'edc non riesco a diciamo usare cioè riesco non è che non riesco a usare però alla fine l'edc per me l'edc per me il chiudibile che usi per i lavori quotidiani per quei piccoli compiti di utilità deve essere una roba abbastanza portatile abbastanza leggera e non estremamente costosa perché comunque l'edc che effettivamente se dici lo porto spesso in tasca è molto più soggetto a un coltello che porti alla cintura quando vai a fare un'uscita eccetera eccetera a cadute accidentali a danneggiamenti a quindi per quello che mi riguarda non sui folder non punto a roba costosissima è diverso sui sui fissi ci investo un po' di più questa è una è una mia considerazione infatti sul mio canale di folder in proporzione di folder molto costosi non ne vedete tanti cioè quindi quindi a me alla fine quello mi interessava un coltello edc da portare tutti i giorni senza remore se mi cade non mettermi a prangere perché magari ho speso 300 350 euro abbastanza pratico abbastanza leggero abbastanza versatile e affidabile anche questo è il cartellino con il quale il coltello arriva con tutte le informazioni che è Shav oregon ok che arriva che accompagna il coltello il coltello arriva semplicemente in questa busta già a vederlo così devo dire ragazzi che è molto ecco anche al tatto ragazzi è molto molto bello devo dire la verità il manico in alluminio qui vediamo se riesco a andare a favore di videocamera il manico è in alluminio è anche molto leggero ha questo blocco che è molto simile all'axis lock non vorrei dire una cavolata com'è che si chiama dura lock probabilmente avevo letto da qualche parte comunque è praticamente è molto molto simile all'axis lock poi quello che c'è dietro ragazzi lo sanno le aziende nel senso che gli accordi che ho preso io trovo il coltello trovo l'axis lock un ottimo blocco ho trovato questo coltello mi piaceva come design mi piaceva come progettazione me lo son preso non sto a farmi troppi paturni comunque la kershaw è un'azienda che in america è molto molto conosciuta qui c'è la clip devo dire molto bella sembra molto ben funzionale non è troppo rigida fissata con queste viti che vedete qua e il coltello viaggia su delle rondelle di alluminio un'apertura dovrebbe avere un'apertura molto molto fluida ecco esatto molto fluida questo è il coltello aperto ok coltello ragazzi la linea veramente mi piace un casino la linea veramente mi piace un casino qui vedete riportato numero seriale del numero del coltello ok 2038 l'acciaio la lama in acciaio d2 col manico in alluminio qui vedete la città china perché la produzione viene fatta in china ha una punta veramente ultra accuminata abbastanza sottile però ultra accuminata e la linea mi piace veramente tanto qui sopra un jimping che devo dire da una sensazione di comodità veramente bella anche il il manico è perfettamente lavorato rifinito è molto molto curato devo dire non è un coltello che a me piace che vi devo dire almeno questo è l'unboxing ho intenzione di usarlo vi darò poi le mie impressioni magari portandole in qualche uscita ovviamente non è un coltello spaccalegna è un coltello per compiti di utilità come può essere un paramilitario come può essere un bug out come può essere un un grip tilian insomma una delica questi coltelli qua il coltello è molto bello a questo perno per l'apertura cerco di farvi vedere un po i particolari e viaggia appunto su l'apertura veramente fluidissima ragazzi qui aperto quindi sporco sporcizia abbastanza facile da pulire sposto un po più qua il coltello è bello coltello è veramente bello si chiude coltello anche da genere gentleman vedete la lama è perfettamente centrata potrebbe essere benissimo anche un gentleman knife è molto leggero molto bello ragazzi c'è una versione fanno in materiale sintetico proprio io amo adoro l'alluminio mi piace un casino anche perché da una certa solidità al coltello al momento giochi non ce ne sono la lama abbastanza sottile ragazzi e penso che siamo siamo secondo me 3 mm adesso un attimo questo metro qua vado subito a misurare prossimo di non ho il calibro ce l'ho di là adesso non lo vado a prendere allora lama di 3 mm ragazzi di acciaio d2 molto devo dire molto bello sembra molto ben affilato molto ben affilato vi dico anche il peso la bilancina casalinga ma abbastanza preciso peso ragazzi 96 grammi peso per me perfetto ragazzi per un folter perché in mano non dà quella sensazione di inconsistenza anzi dà una bella sensazione di robustezza ma non è nemmeno quel peso eccessivo che poi in tasca si fa sentire da fastidio il jimping è molto comodo il coltello devo dire che si impugna benissimo ragazzi nella mano sta benissimo è molto molto bello questa linea così pulita lineare poi sapete io vado matto anche per le le punte spear point qui con questa lavorazione vedete questa specie di bisellatura anche superiore ma non ha nessun controfilo affilato ovviamente si sfina qua la punta è molto accuminata è molto bello devo dire che è molto bello andiamo un attimo a vedere come va anche la penetrazione entra tantissimo perché ovviamente è una punta molto incisiva il coltello taglia anche molto bene devo dire potrebbe diventare ancora più tagliente con una passata di strop però devo dire che taglia 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 è bello è bello fino al filo è bello fino al filo quindi ha lo spessore secondo me giusto da da folder bello devo usarlo devo portarlo a senso così in mano bello ma sono contento è compatto ah non ho detto le lunghezze andiamo a vedere un attimo allora lunghezza totale siamo sui 20 centimetri e 2 3 qui si può mettere un lacciolo ok quindi 20 centimetri totali con 9 centimetri di lama a questo punto qui quindi considerate di tagliente ci avrete 8 centimetri e mezzo misura giusta secondo me misura giusta è abbastanza sottile lo vedete anche questa posizione quindi da portare molto maneggevole molto bello anche la clip mi piace molto queste sono tutte impressioni ovviamente estetiche devo dire che molto bello per il prezzo secondo me mi sembra come cura un coltello veramente ben fatto vedete la apertura fulminia la chiusura altrettanto peso giustissimo secondo me azzeccatissimo in mano da restituisce veramente una bellissima sensazione ragazzi coltello acquistato da bjorlans ok e vi ho detto indicativamente è un coltello che si prende intorno alle 100 euro secondo me ripeto manca la prova sul campo che ovviamente vi farò ma questo qui l'unboxing e le prime impressioni sono veramente positive magari guardatevi anche qualche recensione che si trova anche online negli states qui da noi mi sembra tanto tanto che noi che è stato tanto pubblicizzato però negli states è un coltello molto molto apprezzato ripeto per chi non vuole spendere cifre esorbitanti per un folder ne ho letto veramente veramente bene qui il c'è il punto dove si blocca la lama qui che è un forse un po sottile ma comunque se consideriamo che incastrato nelle guancette in alluminio ci ha cartellato dovrebbe cartellato in acciaio e in più c'è le guancette la struttura in alluminio quindi molto dovrebbe essere anche molto robusto ovviamente non è un for max scout è ma non non nasce per questo nasce come coltello leggero taglio di corde taglio di cibo cartoni fare due truccioli un picchettino aprire dei pacchi aprire le scatole di cibo quando si è fuori tagliare una corda questi compiti qua coltello che devo dire ragazzi veramente veramente bello 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 esteticamente vi farò sapere poi le prove sul campo che dire ragazzi fatemi sapere le vostre impressioni se conoscete conoscevate questo coltello e soprattutto se avete esperienza con questo coltello ok e se il video vi è piaciuto come sempre lasciate un like se non siete iscritti iscrivetevi al canale ci vediamo al prossimo video ciao